Buongiorno, signor Bafler. Tu non dici mai grazie, vero? No, mai! Ci sono due errori. È tardi. No, deve riposarsi. Mi riposerò quando sarò morto. Signore! Ehi, signore! Va tutto bene? Mio padre ha avuto un ictus. Non è sempre una cosa grave. La samba della notte verde. Per la notte verde, la samba... Sta sfarfallando completamente. Il danno è nella zona della memoria e del linguaggio. Facciamo qualche test. Heliotropio, martedì, kikiriki... Tranquillo, non è uscito niente sui giornali. Ora ti lecco. Devo andare dalla psicopatica. Via! Quando non ricorda una parola, cerchi un'altra strada. Se il mare è in tempesta, la barca resta in... Porco? Quasi. Come si sente oggi? Voglio cucire da qui. Buongiorno, signore. La trovo davvero in ottima forma. Ah, c'è un porno. Fai il diavolo a quattro perché l'aiuti e quando non le servo più sparisce. Sono tre anni che studio perché un giorno tu possa essere fiero di me. Non si usa così la gente, non si fa. Sono toffuto senza di lei. Mi dia un coniglio spassionato. No, non è possibile. Cos'è uno scherzo? Ti cerco da più di un'ora. Mi sono completamente terso. Questo sarà la tua memoria. Lì c'è la casa, quello sei tu. Così non ti puoi perdere. Mazzie. Mazzie Grille. Signore? Ah, un tè e rasta. Bella, fratello.